Seve ragazzi e bentornati nella nostra mappa di anno signori Nell'ultimo episodio eravamo riusciti a scappare da questa casa maledetta Però poi ragazzi siamo morti malissimo Quindi adesso riproveremo a cercare di scappare Io ovviamente non mi ricordo più un cacchio ma ci proviamo Allora siamo di nuovo nella nostra camera Io setterei lo spawn qua ecco settiamo lo spawn qua così siamo sicuri di ripartire sempre qua Allora usciamo fuori Allora se non ricordo male il posto dove siamo usciti fuori Era da qualche parte qua Allora questo qua è l'ufficio dei professori E ci siamo andati tranquillamente Qua si scendeva giù e va bene Mi sembra che dovevamo scendere giù Per poi risalire su e spuntare direttamente nella palestra Almeno questo è quello che mi ricordo Proviamoci tantissimo Porca zozza ma che ci fa questo qua Ok va bene abbiamo visite ragazzi non me l'aspettavo mai Ecco qua in fondo al tunnel c'è una scala Io devo anche trovare delle scale se non mi ricordo male Ok eccoci qua Facciamo così e usciamo in palestra Perfetto Poi dalla palestra in teoria dovremmo riuscire ad andare nei bagni Che dovrebbero essere questi Allora qua c'è Ci sono gli spogliatoi Dovremmo essere soli negli spogliatoi Sì c'è nessuno Allora controlliamo un attimo Qua non c'era nulla Mentre in quest'altra porta Allora questa è l'uscita E ok qua invece c'è la toilette Io farei un attimino A questa già l'abbiamo vista Non c'era niente di interessante Assolutamente Controlliamo bene tutte le parti Ragazzi perché qua si nascondono un sacco di cose strane E questa è l'uscita Qua siamo usciti l'altro giorno Ok Adesso Raga non si vede nulla È veramente tanto buio Allora cerchiamo di dare uno sguardo qua fuori Saltelliamo felici Qua non posso fare niente E va bene Andiamo così belli tranquilli Allora là c'è uno E lo stiamo vedendo tutti Ok Mi ha visto tantissimo Ma questo corre però Attenzione Quello mi sa che correva raga L'ho visto correre in un modo molto sospetto Allora vorrei guardare com'è il di fuori qua Questo sta lanciando Non fiega niente Facciamo un po' di slalom tra gli alberi Porca zozza Signori qua ci sono delle scale Io prendo queste scale In teoria non possono salire vero? No Non possono salire Allora che cos'è qua? Dove siamo? Che roba è? Cos'è? Cos'è? Che devo farci con sto coso? Ma si può mettere un salotto sopra il tetto? Cioè Che ci faccio con sta roba? Vabbè c'è un salotto sul tetto raga Allora Controlliamo un attimo Mica Che cosa posso fare? Allora Combinazione Qua c'ho una leva Sta leva non l'ho ancora messa da nessuna parte Dove la posso mettere sta leva? Io non lo so Do si mette sta leva E' un casino E' un casino Allora qua posso andare da qualche altra parte Là c'è un'altra zona della casa raga Ok Signori Devo fare questa Porca zozza Mi sono fatto malissimo Ma malissimo tantissimo Speriamo di non beccare nessuno di faccia Ah Io sto cercando di Trovare un posto Diverso Da quelli che abbiamo visitato finora Ok Questa qua Non si può aprire No Ce l'ho la vecchia chiave Aspetta Aspetta Ce l'ho la vecchia chiave Oh Attenzione Attenzione Allora mi sa che devo avere le chiavi in mano Per aprire le porte Ci mettiamo qua Facciamo una fuga un attimino da questo lato Giriamo così Ok ho aperto questo Attenzione Tu che cosa vuoi per essere aperto Niente Eh raga ma questo mi sta inseguendo tantissimo Ma te ne vai o no Porca la zozzeria Fammi andare qua Andiamo qua Porca zozza Ah per un attimo l'ho rimasto bloccato Do cacchio si vamo Mi sto perdendo tantissimo Ok sto qua sto qua sto qua Vai infilati 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 amico Che ci sta qua dentro Ci abbiamo un'altra Una cos'è questa roba Un'altra leva Può essere piazzata su un target block Ma già ce l'ho questa Ok ci abbiamo due leve signori Allora la chiave vecchia l'abbiamo usata E va bene Quindi mettiamoci questo qua Leva uno Leva due Leva tre Leva quattro Non si capisce un cacchio Ok signori Riusciamo Vediamo se riesco ad infilarmi qua dentro Con molta calma Porca la miseriaccia Ma dai Dai Stava lì Non l'avevo vista Signori ce la siamo ritrovata di faccia La sister Ma porca la zozzeria assurda Risponiamo Allora dobbiamo spawnare Sì nella nostra stanzetta Fantastico Allora Ci abbiamo la silver key La yellow key Green key Red key Car key Jean key Ci abbiamo pure la chiave della palestra E la old key che abbiamo usato Allora controlliamo Questa è aperta Questa abbiamo aperto tutto Questa qua che cosa vuole? Allora la main key non ce l'abbiamo No Decisamente no La main key non ce l'ho ancora Questo l'abbiamo visto Questa qua è la palestra La palestra Io ho la chiave della palestra Ma non l'ho ancora usata Ecco qua Abbiamo usato anche la chiave della palestra Perfetto Quindi una volta che l'abbiamo usata Io me le tolgo di torno Ragazzi Così a me non ce l'abbiamo in mezzo alle balle Qua c'è sta botola che Ah ok Noi veniamo da qua Giustamente Perfetto Chiudiamo un attimo Qua posso salire C'è qualcosa Porca zozza Ma mi faccio male tantissimo C'è qualcosa qua su Forse Qua su potrebbe esserci qualcosa Vediamo Vedo delle scale Magari che ne so Ci sono degli item frame Robbe del genere Non lo so Non lo sapremo mai Premo qua C'è qualcosa qua Non c'è niente Qua non c'è niente E lassù manco c'è niente Non c'è nulla ragazzi Ok Allora scendiamo A sto punto io vorrei fare un attimino Una controllata delle chiavi Che abbiamo già utilizzato Questa qua che cos'è Non si sa Allora Questa qua La main key E vabbè Niente Bedroom 8 L'abbiamo aperta E non c'è assolutamente nulla Questo l'abbiamo aperto E non c'è assolutamente nulla E a sto punto Raga Io devo riandare Necessariamente qua Allora Qua non c'era nulla Qui c'è la cappella L'abbiamo vista Ma non c'è nulla Qua c'è lo storage Che raga Io vorrei anche Cioè veramente Vorrei fare cose interessanti Ma Allora Questa leva può essere piazzata Su un target E questo può essere piazzato Su un target Il problema è che io non so Che faccia abbia Il target ragazzi Perché con questa Resus pack Si capisce un cacchio Fondamentalmente Ok Qua si scendeva giù Qua si andava Qua dentro Che mi faceva Spuntare qua Dove c'era un posto Che mi diceva Di trovare delle scale Forse era qua dentro Potrebbe essere tantissimo Allora Cosa sto guardando Questo è un orange wool Ok Perfetto Devo cercare di capire Qual è il target Raga È un problema È un problema Continuiamo a camminare di qua Comunque Ce ne stanno 27 Di sister In sto posto Ok Mi servono delle Delle scale Per andare lì Vedi You need to get Missing part of the ladder To climb Up Cioè mi serve Trovare la parte mancante Delle scale Per arrampicarmi lassù Il problema è che Come cacchio Mi ci arrampico E lassù Io non lo so Non lo so Mi servono delle scale Che non ho Evidentemente Ok Siamo qua di nuovo Qua non c'era nulla Ce ne possiamo andare di qua E raga A sto punto Mi sembra molto chiaro Che sopra Non c'era nulla Aspettate Vediamo se sopra Abbiamo lasciato qualcosa Di inaperto Allora Innanzitutto Sopra c'è gente Strana e cattiva E malvagia Questo qua È già aperto Non ci interessa Questo l'archivio L'abbiamo aperto L'attico L'attico Non Niente Non lo posso aprire Office You need Office key Office key Non ce l'abbiamo No Non ce l'abbiamo Decisamente L'office key Questa è la cucina E non ci interessa niente Questa qua Era la dispensa Della cucina Questa è una shulker box Siamo tutti quanti Molto contenti E quindi qua Non c'è nulla Allora abbiamo appurato Che al piano superiore Al momento Non c'è nulla Che ci possa servire Quindi Io direi Facciamo un giretto qua Tanto per capire La phone room Ah vabbè Adesso non ho la scheda telefonica Quindi Beh a quel paese amico Dicevo Mi sembra di capire Che dobbiamo scendere giù E allora dobbiamo Necessariamente Farci male Non è vero Non volevo farmi male Allora per andare fuori Si andava di qua No si andava in palestra In palestra La palestra sta E chi si ricorda Ando sta la palestra Di qua forse Aspettate Questa è la palestra Palestra signori Attenzione Ok Siamo in palestra Poi dalla palestra Si va qua E qua si esce Direttamente fuori In allegria Stiamo molto attenti A non farci vedere Ok Stiamo zitti Mi raccomando Controlliamo un attimino La situation Qua abbiamo visto Che si sale su E vabbè Ma già mai visto Ma che cacchio Si ma sei troppo veloce Amica mia Cioè Non lo so Un po' di educazione Non è che si fa così però Porcazzuzza Mi sta inseguendo tantissimo Allora qua Non ci posso andare Qua ce n'è uno dentro Qua non ci posso Fa un cacchio Qua non posso fare niente Ragazzi L'unica cosa Mi viene da fare E andare qua dentro Attenzione Delle scale Delle scale Delle scale Prendile 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 Ma porca la zozzeria Schifa Non ci sto credendo Ok Dobbiamo andare a prendere Quelle scale Vai Adesso andiamo Facciamo una cosa Velocissima Non vi preoccupate Vado di qua Palestra Giro a destra Vado dritto Esco fuori Vai amico Che ce la puoi fare tantissimo Ok Mi sta iniziando a piacere tantissimo Sta mappa raga Corri Corri così Non ti preoccupare Corri così Corri tranquillo Attenzione Amico sono qua Vieni 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 Bravo bravo Seguimi Apri la porta Sto qua Sì ma devi venire qua Però deficiente Ragazzo Sono qua Muoviti Che mi fai Desponare la roba Porca zozza E guardate Se arriva Sto scemo Vabbè Lascia perdere Guarda Intelligenza superiore Incredibile Allora Giriamo di qua Amico mio Prendi questo E scappa Prendi questo E scappa Via 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 Forse ma mi segue Mi sta seguendo tantissimo Attenzione Me lo frego Me lo frego Raga Sono sicuro che lo frego È troppo stupido Per entrare dentro Qua c'è qualcosa No Qua non c'è niente Qua che c'è Tanica di benzina Vediamo sta chiave Ok Facciamo così Signori Abbiamo il gas Attenzione Abbiamo la benzina Per la macchina È tutto molto bello Ci potrebbe essere Qualc'altra cosa Che mi interessa Qua dentro Secondo voi Raga Il tipo è qua fuori Eh Io Non vorrei allarmarvi Ma il tipo è chiaramente Qua fuori Adesso Io non so Dove devo andare Qua non c'è niente Che posso fare Chi ha aperto le porte Io Ok Il tipo è di là Non ce ne frega niente Ne andiamo di qua Belli tranquilli Esploriamo questa zona Qua non ci posso andare Giustamente Là non ci posso andare A sto punto Io raga Me ne scappo di qua Ma proprio bello Tranquillo Sciolto E anche con molta disinvoltura Qua dentro Abbiamo visto Che non c'era nulla di che Giusto Non c'era nulla di che No No C'è un item frame Non ci interessa nulla Quindi a sto punto Qua che cosa c'era Questo mi incuriosiva Che cosa sei tu Non si sa raga E dobbiamo tornare dentro A sto punto Per forza Allora signori Stiamo ritornando in casa Attenzione Il momento è abbastanza magico Qua si fa qualcosa Non si fa solamente nulla Rientriamo in casa Signori Qua la toilette L'abbiamo già vista Ora dobbiamo andare A trovare quelle scale Eh aspettate Devo ricordare Come ci si arriva Allora Dove che devo mettere Le scale È lassù Forse Non mi ricordo Minimamente mai Sì Era su sicuramente Dai Era su Aspetta Però qua c'ho roba Andiamo un attimino Dove sta la macchina Perché secondo me Allora Do Do la devo usare Sta cosa Eh Ci abbiamo una chiave Del garage No 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 Allora Continuiamo un attimo Tu che cosa sei Sei un target Non è mai un target Questo Ok gas Ce l'ho Ce l'ho Tieni Ok gas È stato usato Ragazzi Il gas L'abbiamo usato Tantissimo Eh che sta cosa La devo mettere qua No Vediamo qua se ci sono altre cose Da dove interagire Non c'è niente dove interagire Forse qua Nemmeno Dicevo abbiamo messo il carburante Nella macchina Qua c'era la stanza elettrica Che non ci interessa niente Quindi a sto punto Dobbiamo salire su Ragazzuoli E andare a prendere le scale Andiamo di qua Ok Vediamo un po' se mi ricordo Dov'è che si andava Forse si andava di qua Potrebbe essere No Qua c'è la cosa per telefonare La polizia Ma la polizia non c'è Perché non c'è la scheda telefonica È un casino Qua c'era qualcosa Di dove Dove infilare Nemmeno Ok E allora era qua Stanza degli uffici Questa roba Altri uffici Qua c'era la cassaforte Non ci interessa nulla Qua non c'è nulla Ragazzi è complicato ricordarci Questa mappa è Un bel casino Lattico Era lattico? No Lattico non ci posso andare Qua Qua non è Allora in cucina Non era E questa qua Che cos'è? L'office key Non ce l'ho l'office key Forse era da qui Che c'era una botola Strana Dov'era una botola? Ragazzi Mi sono perso Non ci voglio che Cioè io mi perdo In continuazione In questa cacchio di mappa Non era lattico Non era nell'ufficio Sicuramente E allora dove cacchia Rola era? Qua? Nel sister bedroom? Ma no No non era assolutamente qua Assolutamente no Mi son perso raga Mi son perso Allora non era qui Complicato signori Molto molto complicato Quindi da che cacchia Rola di parte devo andare? Non mi ricordo mai Io Là c'è la palestra E non mi pare fosse la palestra Allora devo andare di qua per forza Controlliamo un attimo Allora era qua Forse era qua che dovevo andare? Si era qua Era qua Era qua Mi sono ricordato tantissimo Ecco qua Signori abbiamo la scala Abbiamo la scala Purtroppo non ho cibo E vado molto molto lento Ma non importa Ok Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Signori Abbiamo la scala Stiamo andando nel lattico Attenzione Ok Ok Buongiorno Cosa c'è qua di bello? Qua c'è una leva Cosa fa sta leva? Accende e spegne le luci lassù Queste sono qualcosa di strano o no Andiamo Signori target Li ho trovati finalmente Attenzione Leva tre qua Leva uno qua Ok Quindi che succede? La main key ragazzi E abbiamo Oh Posso aprire anche il garage Signori Stiamo arrivando alla conclusione Attenzione Che è sto cosa? Non ne ho idea Se abbasso questa Faccio qualcosa Mi serve un'altra leva E Tu che cosa sei? La cella dentro Non riesco a vedere Non riesco a vedere C'è qualcosa signori Eh ma non si capisce Questo qua non lo posso fare Questo non lo posso togliere E Ok Abbiamo la main key Signori Dobbiamo scendere giù Di nuovo Quindi usciamo di qua Perfetto Di qua? Mi ricordo niente Sì Scendiamo giù Era giù? Penso di sì Mi pare di sì Mi pare che fosse giù Vediamo subito Allora La main key Dovrebbe essere questa Giusto? Hai bisogno della main key Eccola qua La main key L'ho usata ragazzi Lo stiamo Buongiorno Salve Ehm ma che bella roba Che c'è qua Che è sta roba qua? Che ci sta qua dentro? La leva numero 3 Non ci sto Signori Non ci sto credendo Abbiamo trovato anche la leva numero 3 E questo è il garage Fermi tutti Questo deve essere Forse il garage Cioè voglio dire Io need the garage Questo Ho aperto il garage ragazzi Attenzione Raga Ho aperto il garage Ma mi ha fatto uscire Cioè L'ho finita Ma non ho messo la chiave Signori Abbiamo Ufficialmente Finito La mappa Siamo riusciti a scappare Finalmente Da questa mappa Di anno Bellissima mappa Mi sono molto divertito Ve la consiglio tantissimo ragazzi Come al solito Spero che il video vi sia piaciuto Mi raccomando Se vi è piaciuto Lasciate un like Spolliciate Condividete il canale Sui vostri social E se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale Cliccando sulla campanellina Per questa mappa Finalmente è tutto Io intanto Ne cerco qualche di un'altra Sempre molto bella Molto carina Così ragazzoli Le portiamo sul canale A questo punto Non mi rimane Che darvi L'appuntamento Sul canale Per un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi